Risveglio movimentato per gli aquilani questa mattina che alle 739 sono stati svegliati da una scossa di terremoto di magnitudo 3.1. Secondo i dati riportati sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sismo ha avuto un epicentro a 14 chilometri di profondità, tra Pizzoli e Barete, a 6 chilometri a destra dal comune di Pizzoli per la precisione. La scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione, tant'è che è iniziato subito il tantamp sui social che ormai caratterizza gli aquilani, loro malgrado da quel 6 aprile del 2009. Il movimento della terra è stato avvertito con maggiore intensità nelle zone di Sassa, nel comune di Scoppito, che si trovano più vicini a Pizzoli, ma segnalazioni sono arrivate anche dal comune di Montereale, che si trova più in alto rispetto a quello di Pizzoli, ma anche dall'Aquila Centro e dalle periferie immediate. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone, ma ad ogni scossa torna sempre il timore, soprattutto perché sono giorni che anche in altre parti d'Italia si registrano dei movimenti. Anche a Pizzoli sul sito dell'INGV è possibile vedere come si siano registrati piccoli terremoti di magnitudo media 1,14 nelle ultime 24 ore.